ok buonasera c'era ivan dove sei e aro non c'è ivan vieni qua andiamo a vedere se ci hanno fregato i funghetti eh amore a dopo amore allora guardami me fai piano piano in questo punto scopri piano piano tutto questo ciuffettino di erba scopri piano piano scopri 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 guarda bene oddio cos'è piano 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 ivan piano piano con amore amore mio guarda guarda è l'altro piccolino ha trovato ivan allora te li faccio vedere però non so se sono da prendere guarda qui scava un po in questo punto qua piano perché sennò rischi di romperli o cos'è o aspetta aspetta vediamo prima se sono da prendere oppure no aspetta attento anche qua perché ci sono delle piante più nuove prendi solo questo qui amore prendi solo questo ammodino sotto questo lo lasciamo coperto amore perché è piccolo ecco il mio amore che ha trovato i primi due porciotti va bene però rimane dove ti vedo e ti sento ci rivediamo dopo aspetta 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 oh questo non l'avevo visto lo vedo ora piano ivan da sotto è da sotto bravo bravo così da sotto bravissimo eccone un altro e sono tre è un un po mangiucchiato è però molto 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 buono all'inizio niente niente male bravo amore sei stato bravissimo a dopo proprio lì davanti a te dove sei piano piano è un po nel mezzo di vanno aiuta ma piano 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 lì nel mezzo dove la mamma sta cercando che la mamma ha trovato qualcosa da sotto ivan l'amore che c'è qua c'è un pinolo è bloccato il corcetto più secchi della storia faccelo vedere mamma guarda mamma continuiamo il nostro viaggio cosa ha ritrovato il mio bimbo piano piano fai con la mano amore guardate che bello aspetta Ivan aspetta devi andare da sotto perché sennò ti si spezza amore me lo vuoi tenere un secondo Ivan ti aiuta papà che ho paura ti si rompe ma tengo Ivan eh tieni Aaron amore volevo dire eh lo sapevo perché si rompeva vabbè dai non fa niente tanto le pezze è un ferroco non fa niente non fa niente amore tanto sotto sotto era un po' preso va bene dai gli abbiamo salvato scusate se si muove tutto ma c'ho lui qui che è veramente è veramente pesante da guantà diciamo che oggi è stata più un'impresa che una cosa rilassante cercare il punto va bene a dopo ovvia buonasera a tutti eccoci vedi siamo tornati dalla girata che abbiamo fatto un pineto oggi pomeriggio non ho trovato molto eh perché alla fine sono usciti solo questi qui è sera c'è anche un po' di ombra qualcosa è venuto fuori sono soddisfatto nel senso che ne ho nascosti tanto piccoli ne ho trovati tanti piccoli quindi la nascita c'è questi due giorni di pioggia hanno funzionato penso che domani non lo so perché erano proprio piccoli piccoli e magari dopo domani dopo domani vado penso di averne lasciati nascosti almeno almeno una decina e se ci sono quelli vuol dire che ne spunteranno anche altri quindi può essere che nei prossimi video si inizia a vedere delle belle battute questo era un po' preso però l'abbiamo pulito bene bello non mi sembra esageratamente mangiato ora lo proviamo ad aprire vediamo cosa viene fuori vediamo eh eh oddio un pochino preso è insomma la maniera di consumarlo si trova ugualmente comunque insomma questo è quello che è uscito oggi e domani poi si vedrà se trovo qualcos'altro ve lo faccio sapere buonasera a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti